Dalle Argonautiche di Apollonio Rodio, un ultimo dei grandi poemi epici dell'antica Grecia, anche se qui siamo in epoca ellenistica, i versi 1278 e seguenti, cioè il libro terzo, in cui viene presentato il Giasone o il Giasone, per dirla alla greca, eroico. E per la lettura metrica, ovviamente, Apollonio Rodio usa il solito esametro, un po' differente, ecco, dalle sostituzioni varie dell'esametro omerico o di quello di Esiodo, però sempre esametro d'attilico è. E la lettura, a partire dal verso 1278, ma per tutto il poema, è la seguente. Ai sonides dotede prumnesia desanetairoi, deratotexun duricai aspidi baines aetlon, Neos apò protoron, amiudis dece pampanosan, calcheien pelecateon, empleion odonton, caexifosam homo ois, gium nos demasalla menarei, eicelosalla depu crusauro Apolloni. Paptenas dan anneion ide zugacalche a tauron, autoguon depitois stibaru adamantos arotron, crimse depeta cion paradobrimo neccos epexen, Orton depurriaco cioneen, dapò cacterre esas, Be, dau te, proterose, sunaspidi neri tantauron, Ic ni amaste um on, oidec potenaf rastoio, Ceut monos, ctoniu, inatespisin, ec esce boaula. Cartera, liguenti perix, e lumena capno, Amfo homu progenom topuros selasampneiontes, Ed desan eroes opos idonautaro tusge, Eudi abbas epiontas at esfilas eis alipetre, Mimne apereisi donemne aciumata ellais. Sous-titrage Société Radio-Canada